Salve amici del Centro Meteo Italiano. L'anticiclone afro-azzurriano in rimonta garantisce stabilità prevalente, ma non senza qualche disturbo. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per sabato 20 giugno. Al mattino bel tempo e ampie schieride da nord a sud, con locali addensamenti soltanto sul Friuli. Al pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazioni sparsi attesi sui rilievi alpini e appenninici centrosettentrionali. Persiste tempo asciutto altrove. In serata è notata attenuazione dei fenomeni sui monti, cieli sereni o poco nuvolosi altrove salvo maggiori addensamenti tra Veneto e Friuli. Temperature stazionarie con minimi lievi aumento al sud e massimi in rialzo sulle regioni centrali. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.